Sì, è una spia? Sì, da fuck Sì, da fuck Su, ma mi dici a questo Che p***o è questo? Che p***o è questo? Che p***o è questo? oh ho una catura i had one are you sure about that time to release i don't know what i will Cosa? Cosa? Oh... Oh-oh-oh-oh Chiudo Shhh Listo Eh, però mo siamo tutti friendi, aspetta Appena trovo qualcuno che mi attacca, tu poppa e io gli faccio il culo Ok Era un Heavy prima che ci stava Il Heavy là Eh, il Heavy è sparito Il medico sta qua Aspetta, aspetta Oh Not being surprised Oh no Ok Ah! Ok, stop Oh, ti ha lasciato per poco Ecco Bravissimo Eh Faccio io, faccio io Vediamo chi è la lolly migliore Non c'è la dubbio Grazie L'unica cosa, ciò che si chiama Di apiare dal primo Primo prima di Sì Eh Ma... Beh, 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 beh Non c'è la mia Vai, vai, vai Non c'è la p***a Non c'è la p***a Non c'è la p***a Guarda che s***a Sei vivo? Sì, non c'è la p***a Sì, non c'è la p***a Che uber Questa uber, ok No, Sfella Hanno portato... Hanno portato... Da dall'altra parte Non c'è Ok, finito AHA Ah no, non lo so, non lo so, non lo so Però il loro team si è riempito Scusa perché mi dice 6 contro 6 Se siamo letteralmente più di 6 Aspetta questo vorrei fare lo screen però Non me li fa gli screen non lo so perché Stai premendo il peggio Ok no no ecco sì sì ti sto premendo No eh niente è morto Aspetta da un mo' torno io No non si muore Quattro cuore e mezzo sopra Diamantini Oh tu stai a minare? Sì No vado a minare pure io allora non c'è un zappo Cosa mi dice che è superattivo eh? Per sfigaccio Zitto cittone E mi serve uno schia Che cosa? Ah sei a legend Mi offendo Finocchio Finocchio Su piscor E mi serve uno schia E mi serve uno schia E mi serve uno schia Guarda pietà la felchio Ho pensato al fatto che il tempo si continua ma quando non finiamo quello i nemici smettono di spawnare giusto tecnicamente sì li avevi eliminati tutti c'è la maggior parte Raffanculo è bella ma ti vende qua non credo ci sia speranza che dovrei stare appiccicato così non c'è la faccio è infattibile spai don't take the mad kit fuck off c'ho un pyro vado lo ammazzò con questo mi pare una cattiva non me ne frega un cazzo ti vedi? no 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 va bene così ah è quello che l'ho visto è quello che mi rompeva il corpo 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 oh sta arrivando un pyro è un fischio oh 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 nice ok ok e niente come non c'era mai più chiuso scusa in che mondo ah dove è goobby? adesso ci sono questa dove ero ero oh oh no 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 che cosa mi fai E lo rinominerei Anti-Cheater-Healing Medigan Guarda, poi te lo do io il nome da Ken Aspetta, aspetta Ma niente Era un face-te-be Era un face-issimo Come? I'VE DONE IT! Sì, ero io e... sono andato dopo Bella colpe critiche. Se mi upgrade il seretrasporto, facciamo un'altra cosa. Cosa? Aspettate che sto leggendo. Vai, mette la maschera e inizia da qua. Sì, aspetta... Aspettate che ci sono due civili. Dovresti spostare questi ultimi qui all'angolo. Ti conviene falla adesso. Altrimenti passa una guardia. Oh, ok. Ehi. Ehi, io. Oramai stanno a palla, la conosco bene. Ehm, dove mi metto? Ho il tuo corpo dietro. Qui all'angolo, qui all'angolo va benissimo. Qui qui, lo so io. Ah, voglio, 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 venite qua, venite qua. Aspetta che arrivo qui. Ah, da qui. Fermatevi alla porfa, venite qua. Vedete qua? Vedete su questo muro? Dove è punto il laser? Continuate a spostarvi da questa parte. A non mettere il drill. Cioè, puoi metterlo ma... Cosa? Oddio. Ehm. Tull. Ma.. F**k. Epa. 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 Puri c***a un po' di un po' di un po'. Poi c***o, porco tua. Ok. Adesso? Ehm... Vabbè, in light. Posso non provare? No. C'è una livello 3. Cosa dovrei fare io? Non andare a distruggerla. Con uno scout. Anche io. Non per questo sono appoggiato. Pensavo di essere, tipo, mortissime. E invece mi sono dimenticato della sentra. Con l'enemico. Non per questo. Non per questo. sembra che sei in barrel oggi si blechimesa patata un po' di scema ah io sto gioco l'ho speed rushato troppe volte per non saperlo beh non posso fare quella cosa che da uno guarda luizio luizio attenzione caduta a strutti strutti spagnati oh oh dietro a me c'era un pyro e davanti a me una spira oh oh speriamo che mo' non spunta anche il grosso si si hai ballato allora se non c'è un demonitore assini perfetto fantastico il demonite meno male sta sotto le tubature a prendere i poveri malcapitati che vanno a forse che è successo oh un'altra torretta dai è triste che puoi morire in quel modo oddio oddio mostro c'è una cosa che dico io che c'ho la vita e sono contagioso non no 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 non Grazie a tutti.